Non solo musica nel futuro di Lucrezia Lulu Selassie. L'ex concorrente del grande fratello VIP, dopo la popolarità acquisita grazie al reality show di Canale 5, sogna di affermarsi nel mondo delle sette note ma anche in quello letterario. L'ex fiamma di Manuel Bortuzzo ha annunciato nel corso di una diretta su Instagram che vuole diventare scrittrice e che sta lavorando al suo primo libro. La principessina etiope ha spiegato di essere da sempre una grande amante della lettura e di voler condividere con i suoi follower, aumentati esponenzialmente nel giro dell'ultimo anno, questa grande passione. Lulu ha dunque rivelato che a breve lavorerà su una rubrica dedicata proprio ai libri. La sorella di Clarissa e Jessica ha inoltre raffermato che sta scrivendo un libro, un'idea che ha da tempo ma che solo ora è riuscita a concretizzare e definire meglio. Lulu Selassie ha ammesso. Il libro non uscirà presto, è ancora in fase di preparazione, ma non vi preoccupate, ve lo dirò io quando uscirà. Non vedo l'ora. E chissà se ci sarà un capitolo dedicato anche a Manuel Bortuzzo. Oggi Lulu Selassie è single ma la delusione avuta con l'ex nuotatore non è stata facile da digerire. I due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto dopo l'esperienza condivisa al grande fratello Vip. In questi mesi Lulu ha dovuto fare i conti pure con un'altra delusione importante, l'esclusione dal cast della nuova edizione di tale che quale show di Carlo Conti. Le sorelle Selassie erano date per favorite ma all'ultimo sono state scartate dalla produzione insieme a Maria Teresa Ruta e alla figlia Gwenda Goria. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.